L'Inter deve attaccare a sinistra, lancio profondo per Perisic, va a chiudere gol da Liga, Perisic è in area di rigore, Perisic ancora rientra col destro, la finta col Mancino, i pugni di posa per mettere palla in calcio d'angolo. Il tiro di Perisic, rivediamo il cambio di gioco di Banega per Perisic che vuole rientrare il tiro col Mancino, palla in calcio d'angolo.